Dobbiamo stare in silenzio, siamo all'esterno del set cinematografico di Una Nobile Causa, un film del regista Veneto Emilio Briguglio che racconta il dramma del gioco d'azzardo, un cast d'eccezione e stanno girando in Veneto, e questa è un po' la novità finalmente, dei film che si girano all'esterno e siamo a Villa Foscarini Rossi di Estrà. Vogliamo incontrare i protagonisti di questo film, Una Nobile Causa, vi dicevo una cast d'eccezione, ci sono artisti affermati come Simona Marchini, ma ci sono anche dei giovani, Giorgio Capareccia e Rossella Infanti che sono i protagonisti di questo film. Andiamoli a conoscere ma rimaniamo in silenzio perché ciac si gira qui a Villa Foscarini Rossi di Estrà. Una commedia drammatica che racconta un problema di questa società, il gioco d'azzardo ma in commedia, qual è il suo ruolo, il suo ruolo pregnante? È un ruolo per dare l'idea insieme ad altri di che cos'è la società dove avviene questo dramma in commedia, il dramma di chi perde la testa per il gioco come può perderla per la droga o per una cosa simile, è un vizio simile e appunto io sono un amico di famiglia che però anche lui ha una sua situazione che viene rivelata verso la fine del film, una situazione che lo ha portato a questo fatto. Però è felice perché attraverso un'ipocrisia durata tanti anni si può sopportare un occhio nero per risolvere una situazione. Ecco, ho parlato di ipocrisia perché l'immagine di questa società è un po' questa, per non dire che è un po' Veneta anche. A proposito di Veneto, questa è una produzione Veneta, Emilio Briguglio è un regista Veneto, che regista è? Un regista che ha un bel curriculum pur facendo il regista così per diletto possiamo dire? Io mi sono trovato un po' per caso, anzi portato qui, proposto da una collega che è la protagonista giovane, la Rossella Infanti, io ero amico di suo padre, eccetera. E ha detto perché non vieni, siamo tutti giovani, eccetera. Io non sono più giovane, però mi sento dentro molto, molto giovane, vicino a loro. Ho trovato un ambiente decisamente molto positivo come lavoro, tutti, dalle maestranze ai colleghi, al regista stesso, all'aiuto regista, agli aiuto regista. Mi sono sentito bene, il che è molto positivo, ed è altrettanto positivo che tutto avvenga in provincia, non nella solita Roma dove c'è il cinema, c'è Star Cinema, allora fammo qua. Io spero che sia l'inizio dello svilupparsi di un lavoro cinematografico fuori di Roma, sempre con Roma alle spalle che protegge perché le maestranze la maggior parte vengono da lì, perché l'esperienza, eccetera. Però è giusto che ci siano delle realtà locali e le realtà locali, se sono come questa nella quale io sto lavorando, ben vengano.